Facciamo un giro su Twitter per vedere cosa sta accadendo in casa WWE attraverso alcuni dei suoi atleti. Partiamo da Virman, il mondo è la mia palestra e l'esterno, lo stare all'aperto, è la miglior palestra immaginabile. E guardate un po' che fisico che sta mettendo su Virman, non lo vediamo con regolarità nei programmi principali della WWE, nelle ultime settimane è finito un po' nell'ombra, però devo dire che il fisico c'è tutto, hai voglia. Andiamo avanti e guardatela qua, Rhea Ripley, che condivide con noi alcune foto del suo simpatico cagnolino. Fantastiche, per chi ama gli animali queste sono immagini imperdibili. Poi c'è un video di Finn Balor, Finn Balor dall'ultima puntata di Raw, piccolo spoiler perché è in cronologia americana, ma lo trovo significativo perché guardate che corsa che fa Finn Balor per arrivare nel ring con il tempismo giusto. E guardate, hop, esce, molti tifosi neanche se ne accorgono, scansa la security e il cameraman, poi come Speedy Gonzales eccolo sul paletto e hop, coup de grace. Beh, non facile, non facile fare tutto questo alla svelta evitando gli intoppi. Tant'è che chi ha montato queste immagini, sotto ci ha messo la musica dell'Unitoons. Io per motivi di copyright non ve la posso far sentire, però è divertente, recuperate tutto quanto in maniera originale se volete ascoltarla. Proseguiamo con una Natalia, beh, diciamo, boh, dite voi, pronta per aprire l'ambulatorio medico? Beh, non lo so, beh, insomma, comunque una foto un po' sensuale con questi occhiali che aumentano il suo fascino. Qui invece c'è Dewdrop che ha detto di essersi fatta dei piercing falsi per vedere se le stavano bene. E dopo questa prova adesso vuole riempirsi il volto di Buki, insomma se li vuole fare per davvero. Non so se WWE è d'accordo, visto che l'immagine degli atleti per essere modificata di solito necessita di un lascia passare, di un permesso, di un nulla osta, però vediamo la nostra amica Dewdrop con i piercing. Beh, insomma, acquisisce un'estetica molto più aggressiva. Io preferisco avere un volto, vedere un volto, ma sono vecchio a scuola, sono anziano, un volto pulito. Magari uno o due stanno anche bene, ho diversi amici o amiche che hanno dei piercing non esagerati. Poi ovviamente l'importante è che uno sia contento di se stesso, quindi quando è così scegli la tua strada e fai quello che vuoi. Io però per Dewdrop ho come l'impressione che così, da esterno, in mia opinione, esteticamente stia meglio acqua e sapone. Chiudiamo con Stephanie McMahon. Ieri era il compleanno di Vince McMahon, che come sapete ha acquisito la WWE dal padre, quando si chiamava con un altro nome, e da allora l'ha praticamente sempre diretta. Quindi quello di ieri, credo fossero 77 anni, però controllate, sto andando davvero a memoria. Ecco, quello di ieri è stato il primo compleanno di Vince, lontano totalmente giocoforza dal timone della Lega, che ha reso nota e famosa in tutto il mondo. E questa è un'immagine giovanile di una Stephanie e di un Vince di diverse decadi fa, felici probabilmente nella loro villa in Connecticut. Guardate anche la moto, qualcuno riesce a riconoscerla, ma probabilmente tra di voi ci sarà qualche appassionato, e mi dirà che modello è. Assomiglia un po' al Red Rose. Io ho avuto l'Aprilia Red Rose, che simulava, seppur con un cinquantino, l'Harley Davison, ora non era propriamente identica, perché aveva anche una ruota lenticolare. Credo che si dicesse così. Magari questa è una moto anche di alta cilindrata. Però esteticamente il confronto lo poteva reggere, per un occhio non esperto. E va bene, direi che abbiamo finito l'immersione su Twitter, quindi ora lascio a voi la palla. Se vi va, commentate le foto e il video che avete visto qui sotto nei commenti.